ciao a tutti ragazzi e bentornati su top games io come sempre sono andrea e oggi andremo a vedere come ottenere la catana lunghissima una catana che vi permetterà di uccidere nemici distantissimi e che effettivamente a inizio game potrebbe essere un'ottima soluzione per dominare all'interno del mondo di elden ring anche questo video offerto dal mio sponsor un sito dove potrete acquistare rune materiali di gioco items armi e chi più ne ha più ne metta ragazzi e utilizzando il coupon sconto top games riceverete un ulteriore 3 per cento sul vostro acquisto a questo punto non vi resta che iscrivervi al canale lasciare un like un commento qua sotto e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei miei nuovi video allora ragazzi come in tutte le situazioni in cui possiamo farlo partiamo dal primo falò che in verità è una grazia ma io come sempre continuerò assolutamente a chiamarli falò perché sono affezionatissimo alla serie dei souls quindi per me tutti sono falò a questo punto dobbiamo recarci a destra dove c'è il lago per capirci possiamo farlo saltando direttamente giù possiamo farlo girandoci intorno possiamo farlo ammazzando tutti possiamo farlo ignorando tutti la bellezza di questo gioco che possiamo raggiungere quasi qualsiasi destinazione senza metterci a combattere a fare casino danni vari ed eventuali vi anticipo già che questo personaggio l'abbiamo già incontrato nella nostra storia e lo trovate anche in un video qua sul canale il video dove parlo di patches ovvero quando parlo di una trappola in particolare che in pratica è sempre in questa zona soltanto che bisogna infricciarsi all'interno del fiume che va a nord arrivati in fondo lo troverete perché verrete invasi e vi verrà in aiuto ma detto questo a noi serve in particolar modo in questa seconda parte non uccidetelo magari lì perché l'aiuto vi può far comodo da qui in avanti in verità non influisce almeno a me non ha influito l'ucciderlo di conseguenza o mi sono adoperato ragazzi vi anticipo già anche che sono andato all'accademia di raya lucaria ho affrontato l'invasione di un nemico e me lo sono ritrovato all'interno quindi anche se l'ho ucciso effettivamente per prendere la sua spada e non è morto non ho capito veramente come funzioni questo discorso se è un bug o che cosa però una volta che sarete arrivati qua ragazzi io utilizzo il pestone ovviamente sono in pre patch nel video che vedete ma con due tre pestoni lo facciamo esplodere e con somma goduria ci prendiamo la sua bellissima spada la zanna la zanna è una katana più lunga delle altre questo ci permette di fare affondi e attacchi quasi come se utilizzassimo una lancia il fatto di avere l'agilità di una katana con la distanza di una lancia ragazzi vi assicuro che è un vantaggio da non prendere sotto gamba oltretutto fa una fraconata di danni e soprattutto all'inizio del gioco se andrete a recuperare magari qualche pietra di forgiatura per potenziarla sarà sicuramente un'ottima compagna di viaggio che dire il moveset è quello classico della katana è un filino più lento se devo essere sincero ma effettivamente poi i danni ripagano di tutto questo soprattutto il fatto di poter colpire da una distanza maggiore e quindi tenerci in safe area questo fa proprio totalmente la potenza di quest'arma che dire ragazzi è un video semplice niente di complicato mi piace però per completezza mettere un po tutte le cose che possiamo fare a inizio gioco senza doverci sbattere più di tanto noi ci rivediamo sempre qua su top games mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate un like un commento qua sotto e se avete qualche consiglio qualche cosa segreta da andare a vedere o se avete qualche interesse fatemelo sapere qua sotto nei commenti che mi prodigherò per la causa ciao a tutti ciao